Primo posto per Axel Mazzella. Facciamo un grande applauso con l'inno della Francia, Oristano, Torre Grande, 2019, campionato europeo, European Championship. Guys, please spare the DJ set behind us, ok? Axel, Axel? Spare the DJ set, just in this, only in this direction. Spare the DJ set, just in this direction.